Fino ieri, Sammy era solo una piccola tartaruga tutta sola in mezzo all'oceano. Ma poi... Mi chiamo Ray! Sammy, molto piacere! Sono arrivati i guai. Abbiamo rotto il guscio lo stesso giorno, siamo fratelli! E la sua vita... Fratelli, sì, mi piace! È andata a gambe all'aria! Perché quando incontri nuovi amici... Ehi, ciao! Tutto diventa possibile. Tornare a essere giovani e innamorati. E ogni momento... Non farti strane idee, monsieur. È un'occasione per divertirsi. Allacciate le cinture, signori! Si balla! Ora... Ci sono tante cose oltre queste acque e io voglio vedere il mondo. Sammy e i suoi amici stanno organizzando... Voglio venire con te! Il viaggio della vita. Attenta! In cui la più grande avventura... Shelley! Dove sei? Sarà attraversare un oceano dopo l'altro... Hai visto Shelley? Sì che l'ho vista! Per ritornare insieme. Ah, ehi! Non sai fare altro? Shelley è viva! È viva! Questo è incredibile! Le avventure di Sammy in 3D Su piantatela!